Una settimana di grande cinema accompagnata da una settimana di grande pubblico. La 59esima mostra internazionale del cinema di Pesaro si è conclusa sabato sera con la premiazione del concorso in cui la giuria internazionale ha assegnato la targa per il film vincitore a Broken View del regista belga Hans Verustreite premiato sul palco di Piazza del Popolo. Momento conclusivo coinciso con l'evento speciale dedicato al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore che ha messo il fiocco ad un'edizione che proietta il festival col vento in poppa verso la 60esima edizione del 2024. È stata un'edizione direi straordinaria per la risposta anche del pubblico nel senso che il festival fortunatamente negli anni ha secondo me anche formato un pubblico che ci segue anche in maniera assidua però rispetto ad alcuni momenti, alcuni eventi, alcune proiezioni che abbiamo fatto la risposta è stata quasi in attesa e secondo me anche quest'idea che dopo la pandemia l'anno scorso eravamo in una situazione di normalità ma appena di normalità in questo momento una piazza piena, le persone sopra la fontana sedute intorno a Palazzo Ducale sotto gli archi mi ha fatto ricordare appunto una piazza di tanti anni fa ma con ancora più pubblico. È anche una scelta difficile perché abbiamo scelto di vivere in quel percorso sottile che c'è fra la separazione, diciamo, fra un cinema colto, dotto per studiosi, diciamo così e un cinema anche più popolare e accogliente. Non volevamo rinunciare a nessuna delle due anime, quella nostra più tradizionale, quella verso cui guardiamo oggi e riteniamo di aver trovato un giusto equilibrio. Edizione da record per un festival da Oscar Da Dante Ferretti, protagonista del giovedì del festival al regista Giuseppe Tornatore al quale è stato dedicato l'evento conclusivo Ho sempre seguito questa mostra a distanza. Sin da ragazzo leggevo i resoconti giornalistici, mi compravo i libri delle varie collane edite da Marsilio per la mostra del cinema di Pesaro e ho sempre seguito questa mostra consapevole che si trattasse di un festival particolare, speciale, molto colto e quindi ritrovarmi qui con questa bellissima iniziativa della quale sono grato al comitato scientifico, al direttore artistico di dedicare la monografia al mio lavoro. Applausi per Tornatore scroscianti quanto quelli per Carlo Verdone al quale 24 ore prima Pesaro aveva dedicato un abbraccio ricolmo d'affetto. Sono tanti anni che inseguo Carlo Verdone perché, dicevo, mi viene a dire un amico ma è una parola grossa, nel senso lo conosco da tanti anni e quest'inverno è stato molto gentile, il padre di Carlo Verdone è stato un critico di cinema molto importante un professore, primo professore di storia del cinema e è stato pubblicato un libro con i suoi scritti ripubblicato e Carlo Verdone col fratello Luca mi hanno chiamato a presentare questo libro con loro e quindi in quel momento lì, a quel punto, ho detto Carlo, però adesso, quest'estate e lui mi ha detto, ma non so perché mi danno un premio a Pescara ed era in questi giorni, gli ho detto, ma è perfetto, tu vieni a Pesaro e poi prosegui non sapendo forse lui che, diciamo, tra Roma e Pesaro, Roma e Pescara il Pescara-Pesaro non è così vicino come Roma-Pescara ecco, quindi un po' l'ho raggirato, però poi è andato tutto bene. Grazie a tutti